La polizia locale iniziarà un corso di autodifesa a Belluno, dove di recente si è registrata un'aggressione ai danni di personale in divisa e in partenza un percorso formativo specifico. Già tre hanno aderito a questi corsi che una volta superati saranno loro anche a trasferire queste competenze a tutti gli altri agenti. Credo sia importante anche dai fatti che sono successi venerdì scorso qui in piazza, quindi quando un agente è stato aggredito e quindi avere anche queste competenze insieme alla bodycam e tanti altri accessori che stiamo studiando, credo che sia la strada giusta per rendere più efficaci e più sicuri i nostri agenti nel lavoro che vanno a svolgere nella nostra città. In città, anche per l'insorgere di episodi di violenza giovanile, si è deciso di rendere strutturale questa formazione e l'autodifesa per gli agenti. Il senso non è solo quello di proteggere gli operatori da infortuni, ma anche di limitare, per quanto possibile, le lesioni ai danni delle persone che devono essere contenute con il ricorso alla forza. Inoltre il personale avrà a disposizione le bodycam, le piccole telecamere indossabili che consentono di documentare gli illeciti e prevenire aggressioni.